Aristo Mello, buongiorno Sanremo, buongiorno a voi! Sono piena di santini, tanti santini, sì guarda, c'è ne ho anche uno qua, guarda, Sant'Amadeus di Sanremo. Se vengono i trattori io li faccio salire sul palco, tu lo sai chi sarà in testa, no? Il primo Albano. Signora, siamo in diretta. Signora, benvenuta, benvenuta. Sombra raga, allarme buono. Scappiamo. E Firenze, ariava. Mi serve per il Fanta Sanremo. Scappare a Polizzi. Io ho la squadra. Appunto, vanno a scappare. Inseguisci un attimo. Capabile vincitore di Sanremo, signora, allora lei per chi tifa quest'anno? Io tifo per Baglioni. Baglioni, non noi. Scusate, scusate. Va bene, vienpaolo. Perché tifa lei? Anche Claudio Villa. Annalisa. Tutta gold, la canzone, perché tutta gold? Perché parlo di una tuta che è gold. Sempre. Dorata. Prima delle due. Buonasera, io non lo so, ormai ho perso il conto, perché adesso mi devo riabituare a un nuovo fusorario da domani. Questa è tua, lo sai? Lo sai, è mia, sì. Vendete tutto, poi vai in giro. Ovviamente, dopo cinque anni, come dici tu, è l'ora che lui lasci sua moglie e si metta con me. Questa è fantastica da Sanremo per Sanremo 2024. A tra poco. A tra poco. A tra poco. Oh, Agui. Oh, Agui. Ma ti vuoi svegliare? Ti vuoi mai cantare, lì? Sto aspettando adesso. C'è due e due. Sì, andiamo. Ha capito, ha capito. Cazzo, dai, pure bravo, lo sai. No, no, al volo, volè, volè, al volo, al volo. Adesso mi ingoni con Darjean, per esempio. Oddio, che carino, carissimo, carissimo. Chi se lo merita? Lo so, io no. Giovanna. Ma che è? Ma c'è mia moglie. Vedi. E non è un bacio, non è un vero bacio. Ma che ti alzi pure, ti alzi. Ma come, già è pronta? Neanche un minimo di situazione. Si è alzata. È FED! Io sto bene, spero di non cagarmi addosso. Antti, posso esclamare minchia? No, 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 no. Cosa mi fa arrabbiare? Cosa ti fa arrabbiare? Chi non guarda Shrek. Brava. Dove stai? Allora. Ah, cavolo, non ha il microfono. No, no, è tutto qui. Ah, è qui, lo sentite? Perché io sono... Anche acqua alla scopa di Morani, vai. Ma rimani, do al direttore d'orchestra che non c'è. Hai fatto perdere dei baudi così, eh? Vedi? Grave. È grave. No, eccolo, eccolo. Sì, una volta sì. Non so se si ricorda, ma è in un locale di Milano Sud. In un locale. Però è un piacere incontrarci qui. Però eravamo in un altro stato emotivo, diciamo. Devo postare sui miei social. Quindi... Eh... E... Non ho detto niente. I miei social sono televideo. Eh... This is a devil. This is communist. This is Tarantella. Tarantella. With arms. Eh... Taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka. Questo è il ballo del qua qua. E' un povero chissà. Dare solo qua 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 qua. Sono bucozza. Oh wow! Ah, bai Christi, l'ai prato. E poi! Uooooooooooo Ma diverso da loro Ma diverso da loro E un vero amore e mi vengono in team in vie dei ciclonini al 123 vendevano le bambole vestite come me Abbiamo fatto una delle gheghe più terrificanti della storia della televisione italiana. Irama! Grazie Enrico e poveri che hanno presentato Irama. Grazie, grazie. Dobbiamo andare di là? Vabbè. Un po' con gli occhiali, non voglio sbagliare niente perché...